La tomosintesi è una metodica, detta anche mammografia 3D, che consente di studiare le mammelle strati sottili, trova maggiore indicazione nei seni densi, in pazienti giovani, in seni densi, chiandolari, e consente di vedere le soni mammarie sempre più piccole, perché di ogni mammella non otteniamo due immagini come nella mammografia tradizionale, ma otteniamo fino a 150 immagini. Qui per esempio abbiamo un caso di una mammografia 2D, in cui si vede una mammella ghiandolare, e questa invece è una tomosintesi, in cui la mammella, vedete come scorre e viene acquisita in spessore di strati diversi, e qui compare una lesione mammaria, che altrimenti sarebbe un po' più difficile da individuare, qui sarebbe più difficile da individuare con un esame mammografico tradizionale.